È finita 0-0 tra Viareggio e Sestese ma sono gli ospiti a dovere recriminale per questo risultato. All'undicesimo del primo tempo Stefano Santini viene allontanato dalla panchina da parte del direttore di gara, il signor Fatticcioni, per aver probabilmente protestato per la mancata segnazione di un fallo a centrocampo per Brega che era stato atterrato. Al ventiquattresimo paratona di Andrea Carpita su intervento di Giacomo Matteo, in questo caso la rispinta in angolo salva la squadra Viareggina in maglia celeste. Al ventottesimo c'è un fallo di mano reclamato nell'area della Sestese da parte del Viareggio ma il direttore di gara ha fatto proseguire. Al quarantaquattresimo è Manganiello che si gira e mette sul fondo pericolosamente. Nella ripresa al quinto c'è un pallone perso dal portiere Giuntini in aria su un cross ma la difesa riesce a liberare. Al quindicesimo ancora Carpita in evidenza che respinge su una conclusione dei giocatori ospiti. Al sedicesimo c'è un cartellino rosso per Giacomo Matteo, il capitano della Sestese, però il Viareggio non riesce ad approfittare da quel momento in poi dell'uomo in più. Al ventesimo si fa vedere Morelli, grande la sua partita per quanto riguarda l'impegno come del resto dei compagni ma la conclusione è alta. Al trentasesimo la palla che poteva dare la svolta alla gara è di Brando Mazzeo, numero 10 classe 2007 della formazione della Sestese che va via in contropiede e mette a lato graziando il Viareggio che si porta a casa un punto ma come detto sono gli ospiti a dover probabilmente recriminare su questo pareggio. Domenica trasferta sul campo del Ponte Bugianese mentre la Sestese riceve il Camaiore.